Lui vestito di scifo, baffo biondo e ben murato, addorniato da Luccherino, Lover Sani e Niki Pell. Non è un pupo ma non si arrende, beve solo la mimosa, fa balletti gialli e blu e quest'anno poi si sposa. Amalai, Saminelli, Emanuele, Giovanelli, Robert De Nilo e Piacentini, bacia la russa ai suoi vicini. Suave espressa è abituale, ha un fotografo personale, fa le fusa come un micio, c'è chi odia ormai il suo avvicio. Ma è Gingagnè l'amore, il grande costo non ha bisogno di un tutore. Quando incende una gazzella, e sotto il sole non si spera. Lei è bella più che mai, ma male feste organizzate, sia d'inverno che d'estate, con il sole e anche col vento, potrebbe stare in un convento. Ma per arrivare a voi team, e per avere una foto a colore, su novella a due anni. Ed è democristiana perché sta in bar, o monarchica se va a cavallo, è socialista o radicale, nei giorni dolci e in quelli a. potrebbe far da quarto a guttuso, marta marzotto e lucio mani, ama al sesso in maniera giusta, come orecchio corrado a gusto. Ma è Elsa Martinelli, non ha fatto tanti film, e poi pochi, e anche belli. Quando incende una gazzella, e sotto il sole non si spera. A casa Roman, non ha fatto tanti film... a90. Se è tezz' scegliere un po' un lieco per il nest Oppure è scegliere un nardino. Nell'interno in copertina, è la regina della notte, della sede, della mattina. Come tutti lo direbbe anche stop, lei si alza solo a pranzo, fa pubblicità al suo locale, ha la faccia di Costanzo. E' il mar in avanti, è bella blu e qualche volta che elegante, quando incide una gazzella, e sotto il sole non si spera. Grazie a tutti.